Oh Signore da te, che è più grande e chi più sa servire, chi si abbassa e chi si sa regare con l'amore. Che il man tuo cuore dare, ci insegni che servire e regnare. Ma che impariamo, Signore da te, che è più grande e chi più sa, ci mostri che è soltanto l'amore, l'amore. Ma che amo a te che sei, Maestro e Signore. La lavanda dei piedi di Gesù. Gesù si umilia. Gesù, con questo gesto, ci fa capire quello che Lui aveva detto. Io non sono venuto per essere servito per servire. Ci insegna il cammino del servizio.